Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea, terza sezione criminalità economica ed informatica, ha eseguito tra le province di Napoli, Salerno e Reggio Calabria un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente di beni del valore di oltre 18 milioni di euro nei confronti di quattro società e relativi amministratori operanti nel settore del commercio e distribuzione di carburanti. Sequestrati in particolare, conti correnti, denaro contante, preziosi e gioielli, autovetture ed immobili, pari all'iva e vasa sulle fatture false contabilizzate e dichiarate al fisco nei confronti dei rappresentanti legali di molteplici società indagati per frode fiscali. Il meccanismo fraudolento, ricostruiti dai finanziari del primo nucleo operativo metropolitano di Napoli, consisteva nell'importare il prodotto energetico via mare dalla Spagna, da una società di capitali maltesi, con basi decisionali a Napoli e Catania e stoccarlo in sospensione d'imposta nei pressi di un deposito costiero napoletano. Da qui il carburante veniva ceduto solo cartolarmente e quindi senza versare accise d'iva ad un altro deposito fiscale situato in Calabria e fatto risultare venduto a società cartiere, prive di deposito o di qualunque struttura organizzativa, le quali acquistavano solo sulla carta il prodotto in esenzione di IVA per poi cederlo con l'emissione di fatture false e depositi commerciali campani. Questi ultimi erano di fatto gli unici utilizzatori del carburante di contrabbando che non si era mai mosso da Napoli. La frode fiscale è acclarata attraverso anche l'utilizzo di intercettazioni telefoniche che ha permesso di rilevare un'ingente evasione di accise di 17 milioni di euro e un giro di fatture false di 230 milioni. La stessa si strutturava in tre livelli. Un primo livello in cui la società esterovestita portava il prodotto all'interno di un deposito fiscale costiero via mare dalla Spagna. Un secondo livello in cui il deposito fiscale calabrese che riceveva il prodotto cartolarmente lo rimandava in campagna. In realtà lo stesso non si muoveva mai dal capoluogo partenopeo e attraverso dei depositi commerciali giungeva presso i distributori stradali di carburanti ad un prezzo economicamente grande.